E mi porto via l'armadio Buongiorno coma Buongiorno ragazzi e ragazze Buongiorno proprio Se facce distrutte Ma mi pare che ha sentito la sveglia piglia Ma se non aveva suonato Cioè ti sei svegliata piglia Ma non aveva suonato La prima sveglia Io non avevo tant'avevo bisogno dopo 5 minuti Perché voi non l'avevi visto? Sì Noi non lo sapevamo Cioè i flash Comunque buongiorno ragazzi Buongiorno amici Benvenuti in questo secondo giorno A Bucarest Oggi andremo a fare una bella escursione Bella escursione Perché te ne ha stasera Ai castelli della Transilvania Perché è la che volevo tutti Ce ne si ammazza tra me E si usce e ci ammazza E al castello di Brane Esattamente Al castello di Peles Peles Un ragazzo la pronuncia non lo so E a Brasov Perché si iscrive Brasov però E praticamente durerà Dalle 7 di questa mattina Alle 7 di questa sera Quindi cominciate Cominciate a trattare bene questo video Con un bel like Iscrivetevi al canale Commentate Per tutto ciò che vedrete Nel corso del video E seguiteci Su i video social Che vi lasciamo sempre qui Ci vediamo dopo Allora ragazzi Stiamo andando lì A provarlo Lì Da Luca Diciamo forni Pasticcerie Più rinomate Lì in Bucharest Per lo street food Ci prendiamo qualcosa Per fare colazione E per pranzare Dopo Anche vicinata Dopo vi faremo vedere Cosa prenderemo E quando lo assaggeremo Vediamo se Ci piacerà E' una mia Speriamo bene Mentre Sulla sinistra c'è la regina Maria La seconda regina di Lomaria Di cui vi parlerò Anche al castello di Bran Detto di Dracula La segunda regina di Floren Mi Federica, vi siete coperti i colli? Sì, sì. Perché stiamo entrando in Transilvania? Ok, benissimo. Io vi ho avvisato. Copriamo? Felice, spiegami una a me, non lo so sto qua. Dimmi. Che succede in Transilvania? In che senso? Eh beh, in Transilvania stanno i bambini, no? È giusto? Certo. Esatto, è leggete, no? E poi le spaghiamo direttamente al castello di Brandi. Siamo a quota mille metri. Grazie. Allora, ragazzi, questo è lo spagno. Davvero? Il primo brucetto che abbiamo letto stamattina proprio da Luca alla Nutella. Emanuela, come sapete, lei non vive senza il mangiare. Io non l'ho preso. No, l'ha già mangiato, digerito e fra un po' pure ripeto. No, in effetti poi la prossima volta tanto come dopo me li prendo altri, che so veramente... Non calcolate quello che è freddo. È freddo, però è buono. È buono, raga, non tranquilli. Vabbè, questa Nutella è tutto buono, però veramente... È buono. Poi quando ce l'ho dato erano bollenti. Poi certo, con queste temperature è leggermente ghiacciato, però vabbè. Allora, lo riprendiamo e ce la mangiamo caldo caldo. Sì, sì. La prima cosa che farò. Buonissimo. Buono sì. Allora, dove siamo Ceccia? Facci un po', spiegaci un po'. Per cadere. Oltre che stai per cadere, ho tutto che hai le scarpe da neve. Sì, ma questo è ghiaccio. Eh, lo so, è che è ghiaccio. Lo vedo, non sono ebede. Avevo visto una cosa rossa davanti al mio schermo. Spiegaci un po', dove siamo? Stiamo andando da una parte molto bella, guarda. Mi piace tanto. Eh, ma precisamente siamo usciti da Bucharest e penso sia evidente, Miriam, ma cosa fai? Penso sia evidente che siamo usciti da Bucharest. Siamo in? Transilvania. Siamo in Transilvania, ragazzi. Guardate un po' davanti a noi. Siamo in Transilvania, ragazzi. Guardate davanti a noi, che c'è la nostra... Mimmi, che va lunga. No, 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 no. E davanti a noi, tra poco avremo il castello… Oh, ma dobbiamo prendere la redo? E adesso stiamo entrando. Stiamo per entrare al castello di Bran. No. No. Il castello era alё che era posizionato proprio per controllarlo. Perché? Perché guardate, questo valico aveva come confine quel muro in pietra, lo vedete quel muro? Oddio, tasso mia, ma non è? Mi l'ho vista Mi l'ho vista Allora, siamo appena usciti dal tassello, ovviamente dentro non abbiamo potuto riprendere molto perché non era consentito Vi lasceremo qualche foto E ora siamo uscite, guardate che bello, cioè il patologo è stupendo Fa freddissimo, cioè più che altro ho le mani congelate, quindi munitevi di quanti belli pesanti E che siano touch, in modo da poter usare il telefono Guardate che roba è E' una nuova che porta come rotola Sì, perché si scivola Da fuori c'è il viaggio per terra Comunque ragazzi, vi ricordiamo di lasciare un bel like Vi ricordiamo di lasciare un bel like al video E iscrivervi al canale, eh E iscrivervi al canale, eh Che cosa non vuole? I formaggi, ho detto io Dai, tutti i formaggi Non ho mangiato più di niente Ho preso questa qui Buonanotte, ho tirato una a mamma Facci vedere Sono carine Però io mi sono presa anche questa qui Grande con scritto Rumania Questa è bella Questa è bella Questa è bella Non mi ricordo se l'abbiamo detto Ciao ragazzi Ma adesso siamo a Brasov Che si pronuncia Brasov che si pronuncia Brasov Perché la S è quella strana E si pronuncia Brasov Quindi adesso ci facciamo una passeggiatina Che è molto molto carina C'ha qualcosa Tu hai detto Amsterdam Ma aveva pure un po' Tipo Ti era quella Brava Brava Lo stavo a dire Tutto che non ci siamo ancora state noi Ma lei si È un po' il codice Sì sì È molto molto carina Colorata Bella bella Posso fare qualche foto dopo Prima di andare Andiamo lì Inteso verso questa via E vediamo che cosa troviamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per l'ultima tabba ci troviamo al castello di Peles, Peles si scrive, ed è il castello fondamentalmente, anche se è più recente, più bello della Transilvania. Andiamo a visitarlo dentro. Grazie a tutti. 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 la verità ha scambito, fuori va a freddo sta bene no ma infatti te l'avevo detta domani me la metto piuttosto tremo domani se le fichelle no domani no domani si te conviene cioè oppure a limite a tavarevi a butti auguri a vita ok ragazzi quel locale è bello dentro bella musica ma i mojito non li prendete tanto per cominciare guarda se prendete la bottiglia d'acqua è uguale esatto e soprattutto venditeci in cannottiera in cannottiera per davvero perché si spiada ragazzi ragazzi si spiada grazie per la visione Mezza manica ma nonna, mezza manica Questa tipo non è Sì, anche per questa seconda sera vi salutiamo, vi abbiamo dato un piccolo anticipo di quello che è il quartiere, diciamo, della bovita qui a Bucharest. Molto incentrato in quelle due viette dove ci stanno tutti i locali con la musica, tutti attaccati, il resto delle viette è molto molto tranquillo. Poi vediamo bene, insomma, domani sera tanto andiamo a festeggiare il compleanno di aver bene. Noi vi diamo intanto la buona notte e ci vediamo domani per un nuovo video, sempre qui a Bucharest. Iscrivetevi al canale, lasciate like, seguiteci sui nostri social e buona notte.